Ciao a tutti ragazzi. Bentornati o benvenuti sul mio canale. Io sono Lory, A-S-M-R. Allora, come state? Spero tutto 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 bene. Allora, prima di cominciare, vi ricordo di, se vi fa, iscrivervi al canale e commentare. Mi fa sempre tanto piacere leggere i vostri commenti, anche per sapere cosa ne pensate di video che vi porto, per sapermi orientare su eventuali modifiche da apportare, ecco. Comunque, come potete vedere, ho cambiato lo sfondo. Siccome è finito il Natale, ho detto, ritorniamo allo sfondo di prima. Però mi piace di più, onestamente, perché è un po' più pulito, un po' più sboglio. Prima forse c'erano troppe cose. E comunque con queste luci un po' calde mi piace di più l'atmosfera. Comunque, oggi volevo fare un po' di suoni, senza la copertura del microfono. Quindi iniziamo subito. Questi sono dei braccioletti. Questi sono dei braccioletti. Questi sono dei braccioletti. Grazie a tutti 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 Lips, 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 lips. sleep 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 questa è la magia in tiro del 2020 che devo ancora usare Questo è semplicemente un vasetto profumato con i fiori suoi occhi. La foto è fuori di... La foto è un sacco di acqua. La foto è un sacco di acqua. La foto è un sacco di acqua. Non ne vado eiginolo. La foto è un sacco di acqua. Non utile molto caro. Min đò c escaped La foto è un sacco di acqua. La foto è granata. Acc весltare un sacco. Sì, sì, sì. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ma non avevo le noci, di conseguenza userò due sassolini. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. E' questo nastro che è stato proprio il nastro, non so se di un regalo o di un pandoro o di che cosa. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ho deciso di regalare un'ultimo trigger. Con questo di inferire la matita. Questa temperino non funziona. Vabbè ragazzi, mi piace un sacco questo suono, però in un prossimo video vi porterò il suono della matita che si tempera e non tempera. E niente. E niente, con quest'ultimo trigger vi auguro la buonanotte. Fatemi sapere, fatemi sapere nei commenti. Fatemi sapere nei commenti qual è il trigger vi piace oggi più e quale vorreste rivedere in un altro video. Buonanotte a tutti. Buonanotte a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.